Il treno regionale 91517 di Sistemi Territoriali, proveniente da Perona Porta Nuova e diretto a Romigo, delle ore 15 e 13 e in arrivo al binario 5. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale 91514 di Sistemi Territoriali, proveniente da Romigo, è diretto a Perona Porta Nuova, delle ore 15 e 03 e in arrivo al binario 4. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma in tutte le stazioni. Il treno regionale Perona 3844 di Trenitalia, proveniente da Perona Porta Nuova, è diretto a Perona Porta Nuova, delle ore 15 e 17 e in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma in una Porta Nuova, Domegliara, Ala, Rovereto, Trento, Mezzoporona, Ora, Bolzano, Ponte Cardena, Chiusa, Bressanone, Fortezza, Campo di Tren, Bibiteno, Colle d'Arco. Il treno regionale 91512 di Sistemi Territoriali, proveniente da Romigo, è diretto a Perona Porta Nuova, delle ore 14 e 03 e in arrivo al binario 4. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma a Butta Pietra. Il treno regionale Veloce 3841 di Trenitalia, proveniente da Bolzano, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 14 e 40 e in arrivo al binario 3. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma a Nogara, Ostiglia, Poggio Rusco, Mirandola, San Felice sul Banaro, Credancore, San Giovanni in Persiceto, Osteria Nuova. Annuncio cancellazione treno, il treno regionale 91515 di Sistemi Territoriali, previsto in arrivo da Perona Porta Nuova, è diretto a Rovigo, delle ore 14 e 13, oggi non è stato effettuato. Attenzione, si rammenta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi. Attenzione, treno in arrivo al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale veloce 3467 di Trenitalia, proveniente da Perona Porta Nuova, è diretto a Bologna Centrale, delle ore 13 e 40 e in arrivo al binario 3. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla, ferma a Nogara, Ostiglia, Poggio Rusco, Mirandola, San Felice sul Banaro, Credancore, San Giovanni in Persiceto, Osteria Nuova. Attenzione, avvisiamo che dalle ore 19 e 30 di sabato 11, alle ore 7 e 30 di domenica 12 febbraio, per lavori di manutenzione straordinaria, la circolazione dei treni sarà interrotta tra le stazioni di Trento e Bolzano. I treni a lunga percorrenza subiscono limitazione di percorso. I treni regionali saranno sosseguiti con autobus. Gli orari degli autobus sono consultabili sul sito di RF o sui canali digitali di Trenitalia. Attenzione, prego in passito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione, treno in passito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla.